insieme a loro a dimostrazione di questa eccellenza italiana Sofia Maffeis apre la gara per la Polisportiva Varese mentre vi do al volo i punteggi, i primi tre punteggi dell'Armonia ad Abruzzo la palla di Capozucco, le clavette di Enrica Paolini 29,650 guardiamoci questo cerchio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti